All'indomani del trionfo del progressista Kremi Manoglu al voto per il sindaco di Istanbul, il partito al potere, la KP, incassa il colpo. Rifare le elezioni annullate per presunti brogli non ha portato bene alla presidente Erdogan, che una volta disse chi vince a Istanbul vince in Turchia e ora prova a ridimensionare la sconfitta. Si tratta di elezioni locali, dice un dirigente del partito. La gente ha votato in base a scelte locali e interpretare questi risultati come se fossero elezioni politiche porterebbe a conclusioni sbagliate. Istanbul è più grande per popolazione di alcuni paesi europei, amministrarle come governare uno Stato. Per questo il Kremi Manoglu dovrà dare prova di sé. Secondo alcuni, l'accanimento dimostrato dal presidente Erdogan nel volere a tutti i costi di ripetere le elezioni nella seconda città del paese dopo la vittoria di Manoglu a marzo potrebbe essersi rivelata controproducente. Proprio a causa di questa incalzante campagna di Erdogan, dalle capitali europee le elezioni si sono lette come una sfida personale. E questo è anche un punto su cui hanno fatto leva molti elettori di Istanbul e di altre grandi città, quando il 31 marzo si sono espressi contro il sistema di un solo uomo al comando. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, la vittoria di Imamoglu inquieta l'establishment al potere. Non sono pochi i turchi che ora vedono in lui l'uomo in grado di sfidare Erdogan alle presidenziali del 2023.